Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove c'è un chilometro di coda a causa di un incidente tra Chiusi Chianciano e Fabro in direzione Roma. In FIPILI attenzione al personale sulla strada tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Mare e tra Lavoria e la diramazione per Pisa in direzione Firenze. Si segnala la presenza di un veicolo fermo in avaria in uscita a Bicarello provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambi di carreggiata per lavori tra i chilometri 39.400 e 37.500 e 3 chilometri 37.500 e 35.300 entrambi tra Tavarnelle e San Donato in direzione Siena. Sulla statale 223 di Paganico lavori tra San Salvatore Appilli e Siena in direzione Siena. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!